Non confondere la fatica con la stanchezza. La fatica è benedetta. La fatica è segno che stiamo lavorando, l'operaio deve faticare, il servitore deve faticare e quando siamo stanchi perché il servizio può stancarci il Signore dice venite a me voi che siete stanchi. Ma la fatica è benedetta. Noi portiamo qui la fatica del nostro ministero. Qual è il nostro ministero? È quello che il Battista dice di sé e che il profeta Isaia 40, come abbiamo ascoltato, indica. È quello del precursore, è quello che deve aprire una via. Isaia 43, anche dove sembra che non ci sia, anche nel deserto, lì il Signore aprirà una via. Ritorniamo a ciò che ci siamo detti prima dell'invocazione dello Spirito. Dobbiamo credere che il Signore sta aprendo una via, una via anche dove noi non sappiamo immaginare. Ricordatevi Efesine 3, più di quanto sia possibile immaginare o chiedere o domandare. Fratelli e sorelle, il rinnovamento nello Spirito è prima di ogni cosa un sogno, è un sogno. Gioele 3, è una visione. E la beata Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, diceva che si sogna ad occhi aperti. Ecco il profeta. Non è il sonno della notte, è il sonno di chi vede la realtà con gli occhi dello Spirito, i sensi dello Spirito. Vedete, dice Gesù, vedete. Sogna chi ama, diceva Santa Teresa di Calcutta. Si sogna ad occhi aperti perché si ama. E noi siamo sfidati da questo amore. Chi di voi era alla conferenza nazionale animatori? Bene, i più, grazie a Dio. E lì abbiamo avviato, avviato questo lavoro che lo Spirito sta facendo con noi. Poi alcuni di noi hanno avuto la grazia di lasciarsi ancora scavare dallo Spirito in assemblea nazionale. E adesso in queste settimane in tutta Italia ancora mi ami tu. E arriveremo così alla convocazione nazionale di Rimini. Dunque siamo dentro un cammino che lo Spirito ci sta facendo fare. Io sono certo che Carmela e Mario che hanno già ascoltato questo mio intervento che evidentemente sto riproponendo in ogni luogo si siano armonizzati con quello che io sto per dirvi perché a rigore questa mia parola avrebbe dovuto dare il fondamento al weekend. Ma capite bene che dovendo incastrare, quindi è come se per un momento vi chiedessi di riavvolgere il nastro perché vi siete lasciati su questioni procedurali, regolamentari e noi dobbiamo fare adesso per così dire un passo indietro. Ma la domanda che lo Spirito ci sta ponendo è proprio questa e da questa noi vogliamo partire. Mi ami tu? Fratelli e sorelle, la misura del nostro amore non è nella risposta che sappiamo dare perché Pietro fa i conti con la sua inadeguatezza. È sulla fede, fede che noi abbiamo in colui che ci chiede di essere amato. La fede è la fede in Dio amore. Non dire Dio è amore ma io credo che Dio mi ama e amandomi mi chiede di prendermi cura del suo grege. Questo è il quadro teologico, spirituale, carismatico perché altrimenti non si comprende cosa Gesù sta dicendo e non si comprende come Pietro dopo la Pentecoste, primo Papa, capitolo 5 della sua prima lettera, spiega il passete. Parla a nome della Chiesa e così come Gesù gli aveva detto pasci, adesso Pietro dirà pascete. Per comprendere questo dobbiamo analizzare alcuni elementi fondamentali. Siamo al capitolo 21 verso 16, Gesù è risorto, Gesù incontra Pietro. Per favore non pensiate, non pensiamo di non voler bene a Gesù anche quando tradiamo, anche quando falliamo, anche quando pecchiamo, perché quel Pietro che avrebbe voluto dire a Gesù perdonami, scusami, avevi ragione, è vero, mi avevi detto che ti avrei tradito e ti ho tradito, quello stesso Pietro aveva avuto il coraggio di difendere Gesù. Nel Gezzemani aveva preso la spada, aveva ferito, quindi era pronto a dare la vita. Cosa aveva detto Gesù? a Gesù? Sarò pronto a dare la vita per te. Quindi era un menzognero? No, non aveva stabilità, non aveva l'elezione carismatica. L'amore di sequela, l'amore del seguimi non è l'amore del pasci. c'è un'effusione dello spirito dopo il seminario di vita nuova con la quale inizia l'amore di sequela e siamo discepoli, ma c'è un'altra effusione dello spirito con la quale inizia l'amore pastorale, l'amore di servizio. Sono due e sono ben distinte. Carissimi fratelli e sorelle, se qualcuno di voi pensa, di amare il Signore da pastore con l'esperienza, con il cuore, con la chiamata, con l'effusione del discepolo, commette un grande errore. Che è tradotto in termini concreti, facili, da slogan, se non hai fatto pecorato non puoi fare pastorato. solo se hai fatto pecorato il cammino, il discepolato, la sequela, hai imparato, hai visto, ti sei sacrificato, hai dato la vita, hai fatto tutto quello che ha fatto Pietro, hai compiuto anche miracoli nel suo nome, anche i diavoli si sottomettono a noi. Ma per pascere ci vuole un'altra effusione, ci vuole l'elezione carismatica, ci vuole il carisma, ci vuole Gesù che ti dà il mandato. Siamo al cuore della questione, siamo al cuore del discernimento che ci è chiesto di fare. Se vogliamo capire che significa, Geremia 3,15, vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guidino con scienza e intelligenza. Che se volessi tradurre facile facile direi che vi guidino con l'effusione dello spirito che rende capaci, questa è la sapienza e l'intelligenza di guidare il mio greggio. Ma questo non è l'amore dei discepoli, questo è l'amore dei pastori, è amore pastorale, è amore di servizio. Allora è sempre ADS, uno è amore di sequela e uno è amore di servizio, non lo dimenticate. Questo è il cuore della questione. Ecco perché solo dopo l'effusione dello spirito di Pentecoste Pietro sarà stabile, Pietro non potrà più dubitare, Pietro non potrà più avere la debolezza che ebbe dinanzi a quella serva. Adesso è pronto a dare la vita, secondo grande principio e acquisizione da cui non possiamo prescindere. Giovanni 10, 10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10, 10. Giovanni 10, 11. Io sono il pastore. Due punti perché do la vita. Allora, io sono venuto perché abbiano la vita. Giovanni 10, 11. Io sono il pastore, il buono, il bello o calos. Non capiamo perché gli esegetti continuino a trasferire questa idea della bontà quando la parola è calos. Salmo 45, il più bello tra i figli dell'uomo. Io sono il bello, io sono quello bello, io sono il pastore che tutti vogliono vedere, vogliamo vedere Gesù, che tutti vogliono amare. Dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Datemi Gesù. Questo è Pietro, risolto in Gesù. Io sono il bello, ecco adesso torna, è come se stesse dicendo, abbiamo scherzato su questo, il senso è, io sono il migliore, io sono il migliore, questo è il senso. Non ce n'è un altro come me, non cercate altre guide nella vostra vita, perché io do la vita. Quando dice a Pietro, pasci, gli sta dicendo, dai la vita, non amami. Pasci, che significa, io sono il pastore perché da, do la vita. Dunque, il Signore non ci sta chiedendo qualcosa, ci sta chiedendo, la vita. E la vita deve essere data. Fratelli e sorelle, terza cosa che vi vorrei dire e che spero non ci risulti nuova. Ma in che consiste la vita nuova nello spirito rispetto alla vita vecchia? O in che consiste la vita nuova di un carismatico rispetto al credente della domenica? In che cosa è nuova? Nella capacità di servire. Chi pensa che la vita nuova sia qualcosa che si conserva, che si abbellisce, che si perfeziona, che ti fa stare meglio, che fa vivere bene delle comunità? Questa non è la vita nuova nello spirito. La vita nuova nello spirito è una vita che si offre, è una vita che si dà, è una vita che si spende nell'evangelizzazione, nella missione, nel servizio, nella cura. Novità, se no, non è nuova. La novità è questa, è l'amore. La novità è l'amore. Nessuno ha un amore più grande di questo. Ecco l'effusione. Ed ecco perché lo stesso Paolo, ai Romani, capitolo 5, verso 5, dirà che questa speranza non può deludere. Perché? Perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori. Dunque teorizzare che la vita nuova nello spirito sia vita comunitaria è poco. La vita nuova nello spirito è vita ministeriale, è vita missionaria, è vita carismatica, è vita di servizio. Lì è nuova. Ecco perché ci prendiamo cura gli uni degli altri. Sono sufficienti queste tre acquisizioni fondamentali per capire da dove ci dobbiamo muovere? Ma cambia tutto se ci situiamo e ci posizioniamo su ciò che il Signore ci sta dicendo. E del resto, Marco 3,14 o Giovanni 15,16 li chiamò perché stessero con lui e per mandarli con potenza. Marco 3,14 li chiamò. Giovanni 15,16 non voi avete scelto voi, io vi ho chiamati e vi ho costituiti perché andiate. Ma in Marco 3 lo dice chiaramente. Perché stessero con lui e per. Le vedete queste due preposizioni? Chi pensa che la vita nuova sia solo uno stare con lui non può fare il pastore. Stare con lui e dunque fare esperienza del suo amore, l'effusione, diceva, per mandarli e aggiunge con potenza. Il mandato di Gesù, il mandato carismatico, il mandato di servizio, è un mandato con potenza. È un amore potente. Non è il potere dell'amore lo spirito del mondo, ma è l'amore che dà potere. È il potere dell'amore non secondo il mondo. Amore del potere è un'altra cosa. Ecco perché Gesù dice non fatevi chiamare come i potenti di questo tempo, di questo mondo, ma nell'amore siate a servizio gli uni degli altri. Mi ami tu? Allora, il cristianesimo è l'amore dell'altro. Il pastore ha l'amore dell'oltre. L'amore dell'altro è l'amore di prossimità, è l'amore di fraternità. Il Signore ci mette insieme e dice amatevi gli uni gli altri, è l'amore dell'altro, ma per servire, per ministrare, per esercitare il potere che Gesù ti dà, è l'amore dell'oltre, oltre il limite, oltre le convenzioni, oltre le leggi, oltre il buonsenso. Questo amore che viene dallo spirito non può conoscere opposizioni o resistenze personali, interiori, perché ogni opposizione all'amore cancella l'amore, delude l'amore, spegne l'amore, estingue l'amore. Non spegnete lo spirito, cosa vuole dire Paolo? Non rattristate lo spirito, significa non limitate questo amore, non limitate questa potenza d'amore. Dobbiamo guardare ad un amore che è smisurato, fuori di misura, amava dire Don Guido Pietro Grande, senza misura è dato questo amore. Appunto per questo Paolo nella lettera agli Efesini non trova linguaggio per poter dire quanto sia fuori di misura, smisurato. E deve avere due dimensioni questo amore col quale noi dobbiamo servire, la dimensione della pienezza e la dimensione della moltitudine. Della pienezza è un amore pieno e della moltitudine si deve dilatare. Per questo Gesù dirà io ho un gregge più grande che fuori da questo recinto. Anche per loro io sono venuto. Pietro sentì queste parole insieme agli apostoli ma non le capirono. Dopo la Pentecoste Gesù dovette scegliere un persecutore, Pietro, per ritornare nel collegio apostolico e dire la salvezza per tutti. Ecco cosa voleva dire Gesù, il buon pastore. Non c'ho solo questo gregge ma ne ho uno ancora più grande. Ecco l'evangelizzazione, ecco la missione. E come avanza questa evangelizzazione? Perché Pietro da quel momento diventava un propagandatore? No perché riceve una visione e un altro uomo Cornelio da un'altra parte riceve una visione e questi due si incontrano e in una casa dove Pietro va a capire che cosa deve fare perché qualcuno lo manda a chiamare vede lingue, vede manifestazioni dello spirito e capisce Paolo e dice ma qui ma qui allora come stanno le cose? Cos'è quest'amore pastorale che Gesù mi ha chiesto di avere? tornerà, andrà dagli apostoli, gli diranno ma che sei andato a fare? Io? Ma io sono arrivato e questi erano carismatici, c'era già lo spirito, cosa avreste fatto al mio posto? Dilatare, andare oltre, non misurare questo amore, non commisurarlo alle situazioni umane, agli statuti, ai regolamenti, ai nostri limiti, alle nostre mancanze, ai seminari vuoti. Tutto questo spegne lo spirito, spegne il dinamismo di questo amore, pienezza e moltitudine, è l'amore che sceglie. Fratelli e sorelle, ora ve lo dirò chiaramente, tu sarai scelto, sei l'amore che sceglie e amore vuole amore, e amore vuole amore. Dio ama semplicemente ed è il suo amore che crea, Dio sa solo amare e di questo amore noi possiamo solo farne esperienza per grazia, ecco la corrente di grazia. Tutto è amato, tutto è amato, tutto è rigenerato nell'amore, tutto deve essere dinamismo d'amore fra noi. Vorrei dirvi così brevemente cinque cose che non stanno nello schema del regolamento, nei profili, ma che ci permettono a questo punto di scendere ancora più in profondità. Intanto qui parlo a degli anziani e la categoria degli anziani biblicamente è la categoria dei pastori, cioè dei servitori, va bene? Quindi quando nella Bibbia voi trovate esorto gli anziani, quali anziano tra di voi, così inizia Pietro nella sua lettera al capitolo 5, sta parlando a coloro che hanno svolto un servizio di responsabilità, va bene? L'elemento caratteristico dell'anzianità nella Bibbia è il cuore, è il cuore. La nostra teologia occidentale ha commesso un grande errore negli anni, grazie a Dio quella orientale no. Nella teologia orientale si spiega che il cuore è la sede di tutto. Il cuore non è solo il sentimento, il cuore è la sede della volontà, il cuore è la sede dell'intelligenza, il cuore è il luogo della decisione. Vi darò pastori secondo il mio cuore. Ma in questo cuore che cosa mette lo spirito? Che cosa è questo amore del cuore? È un amore sapiente che vi guidino con scienza e intelligenza. I doni dello spirito, come ci vengono raccontati da Isaia e la tradizione della Chiesa li assume da lì, Isaia 11. che doni sono? Si parla di doni di potenza? Sapienza, scienza, intelletto, consiglio. La fortezza è la fortezza del cuore, non è la fortezza delle armature. Io sono forte, sono forte qui, sono forte qui. Qualunque cosa succede? Io qui non mollo. Guardate certe mamme, guardate certe nonne, erano forti qui. Quando sei forte qui, poi tutti i terremoti possono avvenire, tu non vacilli. Ma sono tutti doni sapienziali, sono doni sapienziali. Nel nostro team carismatico, quelli che hanno fatto parte del team carismatico, quando studiamo la Bibbia carismatica, le prime manifestazioni dello spirito dal Genesi sono tutte sapienziali. Poi ci sono manifestazioni di potenza e poi c'è la dimensione dell'amore, che è carità, comunitaria, che è misericordia nel mondo. Perché l'amore ha queste due grandi attitudini, è amore di servizio, carità, e in genere è una parola che si addice ai fratelli, alla Chiesa, alla comunità, e poi è un amore di misericordia, è l'amore salvifico, quello con il quale Gesù evangelizzava, i segni che salvano, che guariscono, che liberano, che riconciliano. Ma prima di parlare di queste manifestazioni dell'amore e prima di parlare della potenza dello spirito, lo spirito è sapienza. Anche Paolo ce ne dà conto. Leggete prima Corinzi 12,7, l'elenco dei carismi, sono nove, li sappiamo bene, io mi auguro. Ma interpretazioni delle lingue, miracoli, lo stesso carisma della fede carismatica vengono dopo. I primi due sono sapienza e conoscenza, che vi guidino con scienza e intelligenza. Quando allora dice esorto gli anziani, Paolo sta parlando di questo cuore con il quale si deve pascere. E del resto, carissimi fratelli e sorelle, prendiamo Paolo ai Romani, capitolo 10. Paolo dice come potranno credere se non c'è qualcuno che glielo annunci. Ma come si crede? Con la testa o con il cuore? Cosa dice San Paolo? Se, padre Raniero, quante volte? a Rimini. Se crederai, prima devi credere. Ecco l'intelligenza della fede, ecco il senso della fede che è nel popolo di Dio. Ecco la decisione, ecco l'amore. Se crederai con il tuo cuore e confesserai, professerai con la tua bocca che Gesù è il Signore e tu sarai salvato. Allora qual è il cammino della parola? Qual è il cammino dello spirito? La parola si addice al cuore. I carismi si addicono al cuore. La sapienza, la scienza di Dio con la quale guidare, il discernimento si addice al cuore. E dal cuore, ci ha detto Paolo, dove va questa parola, questa decisione, questa intelligenza? Dove va? Alla testa? No, si ferma prima. Da qui, va qui. O possiamo dire da qui, va qui, va qui. Non c'è questo movimento che arriva fin qui. Ancora peggio. Non c'è neanche il movimento che fa così e poi così, così. Troppo complicato. Se facciamo così, va nella testa, studiamo, facciamo un bello studio. Poi da qui, lo crediamo, lo facciamo diventare pieno d'amore e poi arriva finalmente qua. No, vi assicuro che se da qui va qui, qui si ferma. Qui si ferma. Da qui a qui per essere qui, nella vita. Questo è il cammino. Che vi guidino coscienza e intelligenza significa questo. E allora qui, carissimi fratelli e sorelle, applicando questo discorso, e bisogna essere un po' esigenti dopo 50 anni, chi è ignorante della scrittura, chi è ignorante del magistero, chi è ignorante di rinnovamento, come fa a guidare? A proposito di pecorato che diventa pastorato. Quanto più le responsabilità sono ecclesiali, regionali, nazionali, diocesane, come si fa? La grazia presuppone la natura, la grazia presuppone la cultura. Non facciamo miracoli. Non facciamogli rifare allo Spirito Santo. Quella è un'altra cosa. Qui serve stabilità, come vi dicevo. E la stabilità presuppone alcuni elementi fondamentali del discepolato, perché il Signore possa chiamare alcuni a servire. Altrimenti non assegniamo ai fratelli, a delle sorelle, guide che sono cieche, guide che non possono guidare perché hanno bisogno a loro volta di essere guidate. E qui c'è il primo concetto dei cinque che voglio trasferirvi. Persone risolte. Persone risolte. Libere. Senza gelosia. Senza invidia. Io vi ho fatto l'elogio di alcuni fratelli e di alcune sorelle e potrei continuare. E pensate, in ogni regione, dopo tanti anni, ininterrotti di ministero. Ma io gioisco veramente. Io mi rallegro veramente quando vedo lo Spirito che lavora, quando vedo un fratello che progredisce, quando vedo una sorella che si impegna, quando vedo profezia, quando vedo opere che avanzano. Persone libere, persone risolte. Persone che non hanno paura. Persone che conoscono come Dio lavora. Spesso non conosciamo come lavora Dio carismaticamente e diventiamo i primi nemici dello Spirito. Questo significa risolte, mature. Mi seguite? Nessuno si sente aggiudicato. Perché ciascuno deve rispondere della propria vocazione, della propria chiamata. Siamo diversi. Non tutti possono fare il Presidente nazionale. Uno lo deve fare. E non tutti possono fare il coordinatore di gruppo. Ma devono essere 1500. Non sono pochi. Non tutti possono fare il coordinatore di Ocesano. Ma sono più di 200. Non sono pochi. Non tutti possono fare il coordinatore regionale. ma sono 20. Non sono pochi. E questa è una comunità che deve guardarsi e deve vedere chi fra noi può fare meglio degli altri. E benedica il Signore chi lo può fare. Ma non tutti possiamo fare tutto. E questo tema di persone risolte è fondamentale. Molti vengono nel rinnovamento per risolvere la loro vita. Lo sappiamo bene. Per trovare compensazioni. Per trovare aiuto. Come fanno questi a guidare? Come fanno? Direbbe Gesù guide cieche. Che guidano altri ciechi. Secondo concetto. L'opzione fondamentale per Gesù. Quel Gesù è il Signore. Che deve far brillare il tuo volto. Che deve dare a chi ti osserva il valore della vita nuova. Di esiti nuovi. Di significati nuovi. L'opzione fondamentale. Si diceva le origini del rinnovamento. Gesù. L'opzione fondamentale. Per cui quel Dio ti ama. Gesù ti ama. Gesù è il Signore del seminario. Non finiva lì come una sorta di recita che facciamo una volta all'anno. Ma era sempre. Tu lo vedi. Lo senti. Che c'è Gesù nella vita di quella persona. E le persone vengono a te per questo. non si offendano allora i responsabili se talvolta nei nostri gruppi i fratelli eleggono anziani o persone che non hanno nessuna attitudine al servizio e però si vede che amano Gesù e vanno da loro. Piuttosto imitiamoli. Piuttosto emuliamoli. Amare Gesù. Opzione fondamentale. Talvolta ma molto più di quanto noi crediamo. Gesù è più amato dai discepoli che dai pastori. E molta della nostra gente preferisce che a guidare sia un discepolo piuttosto che un pastore eletto. A colpa lo Spirito Santo? No. Siamo noi che forse dobbiamo riequilibrare le cose. Ho dato testimonianza di quello che i miei occhi hanno visto al prayer breakfast. L'opzione fondamentale di Gesù. Mancavo da tre anni. E lì si parla di Gesù. E tutti quelli che vanno, induisti, sciiti, musulmani, ebrei, cristiani, vanno lì perché li accomuna Gesù. La leadership di Gesù. Il modello Gesù. Il Vangelo di Gesù. È preconfessionale. Non si deve chiedere poi al musulmano di convertirsi. Il musulmano tornerà a fare il musulmano ma ama Gesù. Si ispira a Gesù. Sapete il discorso più bello da chi l'ho sentito fare? Mi sono commosso dal re Abdullah II di Giordania che moralmente è il capo dei musulmani nel mondo. Il re Abdullah, dopo il cattolico Biden che ha fatto un intervento molto spento, non c'era nessuna opzione fondamentale. Non c'era. E lo senti. E lo vedi. Lo capisci. Quando è andato il re di Giordania e ha preso la parola? La Giordania ospita come se in Italia il 25% della nostra popolazione. Tutto quello che noi sentiamo in Siria, in Iraq di questi anni, dove sono finiti tutti questi profughi secondo voi? In Italia? Ce n'è oltre un milione e duecento. e quando ero rappresentante dell'OSCE io sono andato a visitare questo campo. Voi non avete idea cosa sia. E lì non ci sono movimenti, corpi intermedi, comunità. Lì non c'è niente. Il rapporto alla loro popolazione. Ebbene questo re, senza lamentarsi, senza rivendicare alle nazioni, ci avete abbandonato, dateci soldi, dateci l'Unione Europea, senza parlare di niente. E noi guardiamo il mare. E per metterci d'accordo se dobbiamo accoglierli, non li dobbiamo accogliere, se doveva partire la capitaneria, se doveva partire... Guardate invece il re di Giordania, dice cari miei, qui tutto va male, perché noi non stiamo imitando Gesù. E qual è la parola che guida la mia vita? Un re. Giovanni XIII. Gesù che si mette il grembiule e si mette a servire. Il capo dei musulmani. Gesù. Finalmente sentivo Gesù. Guardate che nelle nostre omelie, io ho calcolato, possono passare otto minuti prima che il prete dice Gesù. Può finire l'omelia e non l'ha detto. Ma abbiamo appena proclamato il Vangelo, abbiamo appena finito di dire Gesù. E dillo! Ci sono delle volte in cui mi vorrei alzare e glielo... E dillo! E dillo questo Gesù! Dillo Gesù! L'opzione fondamentale è Gesù! Questo Pietro, alla sua prima uscita pubblica da pastore, alla sua prima uscita pubblica da pastore, si ritrova davanti alla portabella e trova uno paralitico messo lì. Che gli fa una catechesi? che gli fa un insegnamento? Che gli fa l'accoglienza? Gli dice io ho una parola da darti. Una, questa ti do. Gesù. Ed ecco subito il processo. Spiegateci come avete fatto. Come si fa? Ma che ne so io? Gli dice lo stesso Pietro. Io ho solo proclamato il nome di Gesù. E a quell'uomo cieco ci devi dire cosa ti ha fatto? Ma che ne so io? Io so che prima non ci vedevo e adesso ci vedo. Gesù! L'opzione fondamentale di Gesù. Fa la differenza, è tutto. È quella fede di cui vi parlavo. La fede in Dio amore. Non dire che Dio è amore. Io ho fede in Gesù. Con queste guide tutto cambia. tutti si innamorano. Tutti hanno voglia di fare. Tutti imitano. Tutti si mettono in gioco. Gesù. Terzo, la pazienza offesa. Fatemi leggere le parole di Pietro. Uomini donne dalla pazienza offesa. Vi suona male questo? Pazienza offesa. Nessuno ti scomoda? Va tutto bene? Significa che non si sta facendo niente. È un cimitero. Ma se c'è vita, vita nuova, c'è continuamente uomini, donne dalla pazienza. Offesa. Completo. Quello che Cristo non ha sofferto, dice Paolo. Questo è il ministero. È il santo servo. È il santo servo. Bisogna soffrire per questo Gesù. Tutti quelli che hanno fatto capire che il rinnovamento fosse un luogo dove tutto è risolto, dove tutti i problemi sono risolti, dove non c'è più la croce. Ma che vita nuova è? Se non passa dal crogiuolo, dall'offerta. E guardate che anche qui abbiamo dei fratelli e delle sorelle mistici nel rinnovamento. Abbiamo delle anime meravigliose. Io mi commuovo. Meravigliose. Che ci dicono che non solo è possibile, ma che è una benedizione. Faticare per Gesù, soffrire per Gesù, prendersi cura del suo gregge. È il mio gregge. Io sono il pastore. Conoscono la mia voce. Io li chiamo per nome. E ci ha affidato. In un tempo nel quale i nostri gruppi si spopolano. In un tempo nel quale non dobbiamo andare a recuperare la pecorella che si è smarrita, ma le e tante. Forse più della media. Vanno più verso il numero 99 talvolta che è verso il numero 1. O no? E chi ci deve andare? Chi li deve andare a prendere? Chi le deve fasciare, curare? Chi? I sacerdoti? Un tempo sì, oggi non ce li abbiamo. Gli anziani talvolta possono solo pregare perché hanno una certa età. Dove può andare mia mamma a 85 anni che si studia questo libretto ancora come 40 anni fa. Ma mia madre che posso chiedere? Più che intercedere e pregare. E fa questo, come molti possono fare. Ma chi deve andare? Pazienza offesa. E qui vorrei dirvi, l'abbiamo spiegato una volta nelle dieci piazze, noi abbiamo sbagliato, proprio diamo una percezione totalmente sbagliata sul piano cristiano della parola paziente. Il paziente non è il ricoverato che sta lì in attesa di cure oppure il paziente non è l'uomo del tempo che dice quanta disgrazia in questo mondo. E cosa dice? E vabbè, pazienza. Magari un padre, una madre gli dice sempre a questo figlio figlio mio, devi portare pazienza, devi avere pazienza. C'è una cosa che non ce l'abbiamo, abbi pazienza. Questa non è la pazienza cristiana. Sapete chi erano i pazienti nel linguaggio militare? Sapete chi vede Paolo quando parla dei pazienti? Erano la prima linea dell'esercito. Cioè quelli che erano i primi a dare la vita, i primi a morire, perché andando incontro, la prima linea, è chiaro che quelli erano i primi a sacrificarsi. Allora in che consisteva la pazienza? Era l'attesa. Sono quelli che attendevano, vigili, pronti per andare incontro, non per dire pazienza, ma pazienza. Io do la vita, sono il primo. E allora qui capite Pietro perché introduce il suo discorso pastorale a partire da questa verità fondamentale. Esurto gli anziani che sono tra voi. Quale anziano come loro, capite? Quindi non si sta parametrando al collegio apostolico, ma i capi delle comunità, come siamo noi, gli anziani, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che ancora deve manifestarsi. Lo smisurato peso della gloria di Dio, lo smisurato. Quando vedete smisura, fuori di misura, non vi dimenticate mai, si sta parlando dell'amore dello spirito, della gloria che verrà e niente se paragonato al peso momentaneo della nostra tribolazione. Ma io sono testimone delle sofferenze di Cristo. Anania, vai da Saulo, è uno strumento eletto e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Pazienza offesa, testimone delle sofferenze. E allora questo greggio di Dio, passetelo volentieri, non per forza, non dicendo che questo è un sacrificio, non dicendo che tutto va male, non dicendo che tutto vi capita a voi, non dicendo adesso basta, adesso mi ritiro, come se chi verrà dopo di voi non dovrà soffrire come voi. O sono solo, come se chi verrà dopo di voi non sarà solo. Io feci 28 anni fa la mistagogia della solitudine dei leader, da Abramo a Gesù, la persona più sola è Papa Francesco, che poi tutti magari vogliono aiutare, come tutti vogliono aiutare Salvatore. Ma quanto più tu sei leader, tanto più sei solo, tanto più devi stare con Lui, tanto più devi salire sul monte. E devi già sentire il peso, la sofferenza di questa gloria. Gesù solo nel Gezzemani. Lì il padre non gli dice questo è il mio figlio amato, lì dirà l'ho glorificato. La massima gloria di Gesù nel momento in cui Gesù sta sudando sangue ed è sì lì abbandonato. Dormivano e Lui è solo e il padre gli dice ti glorificherò figlio mio, che bello. Sto per glorificarti, adesso salirai sulla croce, adesso finalmente darai la vita, adesso finalmente capiranno. Quando dicevi io sono il pastore che dà la vita, non c'è un amore più grande di questo. Fuori da questo mistero, fratelli e sorelle, ma che ci stiamo a fare qui? Io ho una bellissima moglie, me ne torno a casa. O uno ha una bella professione, se ne torni a casa, vado a fare la sua professione. Noi non siamo degli eroi che si stanno sacrificando, rinunciando alle loro domeniche. Noi ci stiamo salvando l'anima e se abbiamo preso sul serio la chiamata del Signore aiuteremo gli altri a salvarsi. Io non ho detto una cosa tra le altre, spero che questo ci sia chiaro. Noi al termine di tutto, quando avremo fatto tutto però, saremo servi inutili. Perché molti dicono soltanto siamo servi inutili. Dice Gesù dopo che avremo fatto tutto questo. Non tutto cosa, tutto. Tutto questo. Non tutto quello che c'è da fare, datevi da fare. Tutto quello che si deve fare. Attenzione a vedere la parola in modo sbagliato. Intanto siamo servi inutili quando avremo fatto tutto quello che c'è da fare. Non tutto quello che noi pensiamo di fare, quello che Gesù comanda. Noi siamo obbedienti, il mandato viene da Lui, la chiamata è sua, le regole sono già scritte, non è il regolamento. Il regolamento disciplina ruoli e funzioni, non la parola di Dio, non la chiamata, non l'elezione per grazia. Attenzione fratelli e sorelle, nessuna regola apostolica, noi non abbiamo una regola, ma nessuna regola di alcuna congregazione, abbiamo qui un religioso, disciplina la parola di Dio. Può disciplinare il modo in cui un carisma si vive, ma la parola è la parola. La chiamata è la chiamata. Cosa è il pastore? È quello che Gesù ha deciso, non noi. E neanche la Chiesa, nel suo magistero, è solo fedele a un mandato. Ma questo discorso è difficile. Giovanni 6. E Gesù cosa rispose? Che rispose Gesù? Dice io so una cosa però, andatevene pure, ma io ho parole che vi danno la vita eterna. Vai a trovare un altro modo per avere la vita eterna. Così bisogna rispondere a chi dice me ne vado. E allora perditi. Vuoi la vita eterna? E allora resta qui. E siccome tu senti tutta la tua fragilità, ecco che finalmente inizia il rinnovamento nello spirito, inizia l'effusione, inizia la sottomissione. Atti 5, l'obbedienza allo spirito. Quanto più tu senti l'inadeguatezza rispetto a tutte queste cose, tanto più c'è spazio per lo spirito, c'è spazio per l'effusione, c'è spazio per il miracolo. Ma questo è meraviglioso! Perché se il mio ragionamento confinasse con i miei titoli, con le mie abitudini, con le mie capacità, con la mia situazione oggettiva, dunque non dovrei avere problemi di salute, problemi di mogli, problema di denaro, problemi... cioè dovrei essere in una sospensione ideale per cui tutto è perfettamente definito perché io possa far bene. E non è così! E non deve essere così! Ecco cos'è la corrispondenza alla grazia, la corrispondenza all'elezione. Questo ci è chiesto, poi farà lo spirito. Come furono belle le parole di Benedetto XVI, qualche volta il Consiglio me la sentite dire, mise da parte i discorsi, il sinodo della nuova evangelizzazione 8 ottobre del 2012, mise da parte i discorsi, si parlava di nuova evangelizzazione e disse il nostro fare è nel fare dello spirito. Non bisogna solo lasciarsi fare dallo spirito che ricrea in noi Gesù, ma bisogna lasciare fare allo spirito. Il nostro fare è nel fare dello spirito. Non dipende da noi, non dipende da noi tutto questo. Ecco perché vi ribadisco ancora una volta, non siamo qui per dire Dio è amore, ma per dire la, mi avete seguito o no? La fede in Dio amore. Siamo qui per esprimere la nostra fede su questo piano di Dio. Non si capisce questo piano, questo piano si annuncia e poi si crede ed è per coloro che credono. È chiaro? E se non è chiaro lo credete ancora di più, come dice Sant'Anselmo d'Aosta. E più crediamo e più comprendiamo e più la parola si addice al cuore e più il nostro sì Gesù ti amo sarà chiaro. Ma la volete la prova di quanto questo Pietro che qui è così abile nel dire questo, nel dire umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno. Questo sapete come si traduce questa parola? Nel kairos. Voi intanto umiliatevi e poi lui vi prenderà e nel tempo opportuno kairos vi esalterà, cioè vi renderà capaci, vi renderà modelli per il gregge. Perché c'è il diavolo al quale dobbiamo resistere. Volete vedere quanto questo Pietro riabilitato da Gesù fallisce clamorosamente? Allora Gesù non gli dice te l'avevo detto, non te l'avevo detto, non aspetta che lui risponda Agapao, Fileo, tutte queste cose filologiche, no? Aspetta soltanto che lui gli dica ti voglio bene, ti amo, ma tu lo sai, gli dice, lo sai, che mi chiedi? Lo sai, sono qui, ti sono venuto a trovare di nuovo, vabbè questa è la scenetta. Però Gesù tre volte cosa gli dice? Passi, 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 passi. E quindi Pietro è riabilitato, è ristabilito e ad un certo punto spunta Giovanni. Pietro lo guarda e gli dice, è lui? Oh Dio mio, come è lui? Gli dice Gesù, che peraltro è ancora più esplicito nel dirgli, ma a te, che ti importa? Ma come Pietro? E tu hai capito il verbo di Gesù, passi, come se fossi da solo? Ecco perché qui dice, passete. Ma in quel lago nel quale ti chiamai, eri solo? O c'era anche Giacomo, Andrea e Giovanni. E quando dopo il primo pastorale, questo è il primo pastorale di Gesù, Marco 3,14, salì sul monte e ne scelsi dodici tra i settantadue e ti confermai per il secondo mandato, poi magari finisci. Non confermai anche Giovanni tra i dodici? Allora, li chiama ai primi quattro, li conferma nel secondo mandato. È Giovanni che si avvicina? Pietro fa questo tonfo micidiale dicendo, è Giovanni che c'entra? Applichiamo a noi che c'entra Mario, che c'entra Carmela, che c'entra Enrico, che c'entra il Mario, l'Enrico che verranno? Mi piacciono, non mi piacciono, sono belli, sono meno belli, mi somigliano, non mi somigliano. Capite? Questa è la dinamica? Ci chiama insieme, li costituì perché stessero con lui e per mandarli con potenza e li chiamò per nome, li chiamò tutti insieme. Gesù anticipava a Pietro un disegno ancora più grande perché nel Cenacolo, apparendo, spiegherà che cosa significa e mi sarete testimoni. Martiri è la parola, dunque, sanno perfettamente testimoni delle sofferenze. Attenzione perché saremo scelti insieme e ciò che il Signore ha scelto dobbiamo scegliere anche noi, anche quando magari vorremmo scegliere diversamente, ma quando il Signore sceglie ciò che Dio sceglie, dobbiamo scegliere anche noi. Allora qui l'altra parola che vorrei consegnarvi e poi concludiamo è amicizia, ma non l'amicizia secondo il mondo, ma l'amicizia spirituale. Che grande dono che io ho avuto nella mia vita, che privilegio che ho avuto. Ero sempre il più piccolo nei luoghi dove mi trovavo e potevo vantarmi dell'amicizia di santi, di teologi, di vescovi, di cardinali, di monsignori, di religiosi, di sacerdoti straordinari di cui avevo una stima, un'ammirazione che emulavo, che studiavo. La loro amicizia, la confidenza, la fiducia, il dirmi tu sei la guida, tu sei il capo, mi diceva padre Bentivegna. Quanti capi ci sono in questo rinnovamento, mi diceva. Io sono gesuita, ad uno posso fare obbedienza, tutte ste equip che fate voi, tutti che comandano, che mi dicono cosa devo fare, cosa non devo fare. Io sono gesuita, diceva lui. Chi è il capo qua dentro? Ora voglio farvi sorridere, ma me lo diceva una figura alla quale anche dire cosa doveva fare, come quando facevamo equip, come con padre Matteo, quando diceva il signore ha scelto te, tu sei, ma padre Matteo fai tu lo schema, no no no, tu lo fai e poi noi lo vediamo. Tu, il signore ha scelto te, io ti faccio da vice, lui mi aveva promesso ti farò da vice, e la nostra amicizia su cosa si fondava? Sui soldi, sulla cultura, sull'età, sul ceto, sulla simpatia, sulle affinità elettive, no. Ci unisce Gesù, è l'amicizia dello spirito. Quando vacilla quella vacilla tutto, fratelli e sorelle. E purtroppo, io lo devo dire, nel tempo, nel tempo, ecco perché fra poco pregheremo, le nostre amicizie spirituali, anziché rafforzarsi, si indeboliscono. Il diavolo entra lì. Si comincia magari con l'essere amici, poi gli anni passano e si indebolisce. L'amicizia spirituale. Levi il pubblicano, Matteo e Simone lo zelota. Non si sarebbero scelti mai, non avrebbero mai deciso di fare equip, comunità o pastorale, perché erano due nemici dichiarati e anche il rancore, il pensiero, non li faceva ritenere i migliori. Con tutta la riconciliazione di Gesù, la testa cammina, il cuore pure, il pensiero del tanto male fatto, questi si uccidevano, facevano le imboscate. Ma perché potevano stare insieme? Avere un solo volto, un solo cuore, un solo amore? Perché erano amici di Gesù. La comunione con Lui ci fa stare in comunione. L'amicizia spirituale è uno dei doni più grandi che possiamo avere. È quella che ci salva, non quella che ci aiuta. Noi spesso consideriamo l'amicizia qualcosa che ci aiuta. L'amicizia deve salvare quando l'amicizia salva. Amicizia spirituale. Fratelli e sorelle, voglio concludere con le parole di un altro santo che tanto ci sta a cuore e a cui dobbiamo tanto. Non posso dire tutto perché molto dobbiamo al Vescovo di Milano e Papa Paolo VI. Dobbiamo molto, molto più di quanto magari talvolta noi immaginiamo. Io ho provato a scrivere anche un libretto su tutte le intuizioni spirituali, carismatiche che precedono l'incontro che Papa Montini avrà con il Cardinale Suenens dopo che il Cardinale Suenens come il Cardinale Dolan vedranno questo risveglio e capiranno che lì c'è qualcosa di nuovo di straordinario e Paolo VI gli darà fiducia. Si lancerà anche contro il giudizio comune che gli aveva detto ma insomma usa prudenza. Gli avevano scritto un discorso anche lui metterà da parte questo discorso. Bene. Questo santo Papa di cui parlo è proprio Giovanni Paolo II che peraltro nella sua ultima lettera autografa parlò del rinnovamento come dei luoghi di pazienza e qui permettetemi adesso una piccola divagazione leggete la lettera di Giacomo è l'unico che fa questo inizia la sua lettera dicendo se qualcuno tra voi crede di non avere sapienza che deve fare? Se la va a comprare? Va a fare i corsi di teologia? Qui è un'altra cosa la sapienza la chieda a Dio che la dà e poi più avanti introduce un'altra figura e dedica molti versi parlando della pazienza parla dell'agricoltore che deve lavorare e deve avere pazienza. Ecco due sorelle gemelle che fanno molto bene ai pastori la sapienza e la pazienza insieme. Ecco perché Giovanni Paolo dice luoghi di pazienza ma sentite cosa scrive al numero 82 della Pastores da Bovobis che significa tradotto dal latino vi darò pastori cioè è un testo sulla pastoralità diremmo noi che porta come titolo proprio Geremia 3.15 vi darò pastori secondo il mio cuore Geremia 3.15 adesso io vi leggerò le parole di Papa Giovanni Paolo II anche con la punteggiatura per dirvi come sembra che queste parole oggi che giorno è? 5 marzo del 23 siano state scritte per la Lombardia e la Svizzera sentitele come commentano completano sigillano tutto quello che ci siamo detti vi darò pastori secondo il mio cuore ancora oggi questa promessa di Dio è viva e operante nella Chiesa quando si usano le due parole voi lo sapete bene vivo e operante questo è il livello carismatico e fede carismatica dire solo viva ma vive e operante noi insegniamo non è solo presente Gesù ma Gesù è anche operante c'è un lavoro quindi questa parola è al lavoro dice il Papa essa si sente in ogni tempo fortunata destinataria di queste parole profetiche queste parole profetiche si attuano dice il Papa da pastori secondo il suo cuore vede il loro realizzarsi quotidiano in tante parti della terra anzi in tanti cuori umani soprattutto di giovani queste parole profetiche si realizzano in tante parti della terra qui a Milano ma soprattutto nei cuori e nei cuori di giovani punto e la Chiesa desidera di fronte alle gravi e urgenti necessità proprie e del mondo sulle soglie del terzo millennio oggi dovremmo dire all'alba del nuovo millennio che questa divina promessa si compia queste parole si compia in modo nuovo più ampio intenso ed efficace nuovo più ampio intenso ed efficace e a questo punto la firma due punti come completa Giovanni Paolo quasi una straordinaria effusione dello spirito se non se non ci fosse chiaro se non ci fosse chiaro allora se avessimo dei dubbi se volessimo porre limiti a questa grazia ci viene in soccorso il Papa che dice questo piano meraviglioso ancora più grande più ampio più tutto quello che volete vedere ritorna Paolo ampiezza larga tutto questo grande amore accade nei cuori e accade per l'effusione dello spirito santo allora vive il rinnovamento che è figlio di queste profezie di queste promesse che è realizzazione esaudimento di tutto questo e nel dire grazie al Signore per il rinnovamento che siamo gli stiamo già dicendo grazie per il rinnovamento che sarà Amen Alleluia Grazie